La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E quindi allora veniamo al settore della sostenibilità, che è particolarmente importante, lo abbiamo detto in questo periodo, sempre di più. Il premio è Eccellenza dell'Anno, Innovazione e Sostenibilità, Lavorazioni Tessili. E il premio va a Tintoria e Stamperia di Lambrugo. Facciamo un bel applauso. Non li vedo ancora. Eccoli, stanno arrivando. Per essere un'eccellenza italiana leader nel settore tessile, in particolare per essere una solida realtà nazionale che ha saputo puntare sull'innovazione, costruendo la propria storia imprenditoriale, sull'alta qualità, sul design made in Italy dei prodotti e sulla lavorazione di tintura stampa, anche per i clienti più esigenti. Complimenti. Eccola qua. La moda sostenibile, il testore del tessile è particolarmente importante. Quindi la ringraziamo per il suo congresso. Grazie e buonasera. Grazie. Siamo in compagnia di Shanti Rigamonti, amministratore delegato e responsabile reparto stampa digitale di Tintoria e Stamperia di Lambrugo. Benvenuta. Buonasera. Grazie. Ecco, ci racconta un po' di cosa si occupa l'azienda. L'azienda nasce nel 1945 come torcitura della seta e nel giro di circa un ventennio cambia completamente la sua struttura diventando leader nelle lavorazioni di tintoria stampa e finissaggio per conto terzi di fibre, tessuti sintetici prevalentemente ed artificiali. L'azienda si rivolge al mondo moda prevalentemente, abbigliamento, accessorio e marginalmente automotive e arredamento. Questa è un po' l'attività al nostro core. Ecco, so che la vostra azienda è molto attenta alla sostenibilità, quindi le chiedo un po' di raccontarci il percorso che avrete intrapreso in questo senso. Allora, a livello di sostenibilità, certamente il percorso è stato intrapreso, ma è stato intrapreso in realtà una decina di anni fa, quando ancora un po' una scommessa. Abbiamo ottenuto negli anni diverse certificazioni ISG, ma in realtà per noi la sostenibilità è responsabilità e la identifichiamo a livello proprio di percorso industriale in tre campi, ossia, diciamo, la organizzazione e digitalizzazione di tutti i processi produttivi interni, la massimizzazione e l'ottimizzazione delle risorse che caratterizzano la nostra attività, ossia luce, acqua e gas, ovviamente poi il tema, diciamo, dei consumi in questo momento è prioritario, e poi le risorse umane. Diciamo che le risorse umane rappresentano proprio l'artigianalità delle nostre lavorazioni, perché pur essendo una struttura industriale, la professionalità dei nostri dipendenti è alla base del nostro successo. Ecco, quali sono invece i fattori critici del settore e cosa si auspica per il futuro? Allora, in questo momento, ormai da molto tempo, i fattori critici sono tutte le congiunture politiche economiche che caratterizzano il mondo, che stanno facendo diventare un po' il mercato fisiologico, fisiologicamente problematico. E quindi, soprattutto in un settore tessile, che è molto cristallizzato, sia costituito da una miriade di aziende, io da imprenditore mi auspico che si crei veramente valore nella filiera e che i brand e tutti, diciamo, i soggetti che hanno un potere decisionale veramente rilevante decidano dire qui distribuire tale valore, creando sinergie e creando, diciamo, dei partnership trasversali che veramente valorizzino quello che sul nostro territorio c'è e che caratterizza poi la manifattura italiana.